Cari fratelli, cari amici, ci troviamo nella settima domenica tra l'anno e iniziamo subito con una preghiera allo Spirito Santo. O Dio che nel tuo figlio Gesù, umiliato sulla croce, hai rivelato la forza dell'amore, la capacità del perdono estesa a tutti gli uomini, spezza veramente le catene della violenza, dell'odio che a volte ci sono nel nostro cuore, in tanti i nostri fratelli, perché nella vittoria del bene sul male possiamo sempre testimoniare il Vangelo che è salvezza, che è vita. Ti chiediamo tutto questo Padre per l'intercessione di Gesù e per la potenza del suo Spirito. Amen. Ecco, iniziamo questa nostra riflessione sulla parola di Dio, ma accennando subito, tante volte parliamo di parola di Dio, ma stiamo attenti, la parola di Dio non è mai una dottrina, non è mai una teoria, un messaggio, la parola di Dio è l'incontro con una persona e questa persona è Gesù. Allora incontriamoci quest'oggi con la parola di Dio di Gesù, che è Gesù. E il tema di questa domenica è proprio questo, il cuore della legge cristiana si riassume in due parole, perdono e amore verso tutti. Bene, come sempre siamo soliti, iniziamo a percorrere le tre letture, cominciando dall'Antico Testamento, perché questo ci permette di vedere come il tema della parola di Dio cresce dall'Antico fino al Nuovo Testamento e Gesù porta a compimento questa parola. Dunque la prima lettura è presa dal Levitico, il capitolo 19, e questo testo, che sono i primi 18 versetti, è chiamato, diciamo così, fa parte del famoso codice di santità. Il codice di santità comprende nel Levitico dal capitolo 17 fino al capitolo 26. È un codice, potremmo dire, morale, liturgico, che ha però come tema, potremmo dire, questa espressione che è presente nel testo del Levitico, quando il profeta ci dice, siate santi come io sono santo, riportando le parole di Dio. Ecco, cosa vogliono dire queste parole? Ecco, queste parole contengono un principio molto importante, il principio dell'imitazione di Dio. Il popolo di Israele, come il popolo di Dio, serve sempre modellarsi sul comportamento di Dio, per cui le prescrizioni, le leggi, tutte le cose anche che l'uomo può formulare vengono sempre dopo. Prima la trasparenza, guardare la trasparenza di Dio, il comportamento di Dio, l'agire di Dio. E se notate in questo testo del Levitico, che vi invito poi a leggere, capitolo 19, il primo posto, e questa è una grande sorpresa, non è nei doveri religiosi che l'uomo deve avere, ma il primo posto viene messo sui doveri sociali, cioè evitare la vendetta, evitare l'odio e tutto questo sostituirlo con l'amore. E in questo testo si dice chiaramente, il Levitico dice così, amerai il prossimo tuo come te stesso. Nella misura in cui tu ami la tua persona, così devi amare il prossimo, ogni fratello. Sappiamo che anche se è già una prescrizione dell'Antico Testamento non è facile tutto questo, a volte neppure tra fratelli, tra amici, sappiamo correggerci nell'amore e sappiamo perdonarci con amore. Ma è un invito molto forte che ci porta oggi questo testo del Levitico, amare il prossimo come tu ami te stesso. E tutti noi ci teniamo alla nostra persona. Vengo a San Paolo, Paolo nella prima lettera ai Corinzi del capitolo terzo dal versetto 16 al 23, ci dà la motivazione profonda del perché dobbiamo amare i il nostro prossimo. E lui dice chiaramente questo, per noi cristiani conta una sola cosa, noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, dunque conta solo Dio. Il cristiano deve mettere al primo posto Dio, c'è il primato di Dio. Tutta la nostra vita cristiana è a servizio di Dio, è in relazione con Dio perché solo attraverso questo diventiamo liberi veramente in tutto. E Paolo dirà chiaramente né vita né morte ci possono essere di ostacolo, né il mondo, né le vicende del mondo, né le vicende della chiesa, possono fare essere come un freno davanti a tutto questo. E questo perché? Perché noi siamo il tempio di Dio in cui il mondo si consacra a Dio. Siamo di Dio. È una realtà profonda che merita di essere meditata a lungo. E vengo al Vangelo. Siamo nel capitolo quinto di Matteo, il famoso grande discorso della montagna, dal versetto 38 al 48, e Gesù riprende il testo del Levitico e anche qui Gesù perfeziona la legge antica. Nel Levitico c'era scritto siate santi come io sono santo, è Dio che parla. Nel testo del discorso della montagna si dice così, siate perfetti come è perfetto il Padre. Non è una cosa facile questa, ma chiediamoci che cos'è questa perfezione, la perfezione di Dio. Vedete, la perfezione di Dio che noi dovremmo possedere non è qualcosa di astratto, di teorico, ma è carità, è amore e perdono. E questo perché siamo figli di Dio. Dio è amore, Dio è perdono, Dio è misericordia, Dio è bontà. Se noi siamo figli, dobbiamo esercitare questo. Il figlio vive le stesse relazioni che vive il Padre. Dunque oggi è molto chiaro l'insegnamento che ci viene dal testo di Matteo. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Vedete Matteo ha due temi molto chiari che sono questi. Primo la non violenza e secondo l'amore al nemico, che in realtà sono aspetti della stessa realtà. E lo dice chiaramente nel testo. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche gli iscrivi, i farisei fanno lo stesso. Anche i pubblicani fanno così. Se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Anche i pagani fanno questo. Gesù ci dà invece un esempio forte, come deve essere l'amore, il perdono. Porto solo due piccoli esempi presi dalla vita di Gesù. Anzitutto vi ricordate al Gezzemani, quando Gesù viene per essere catturato da Giuda e dai suoi, dalla corte, dai soldati. Gesù rifiuta la violenza, perché la violenza, l'odio non è nel piano di Dio e a Pietro dice rimetti la spada del fodero, non berrò il calice che il padre mi ha dato, non la violenza, ma l'amore. E poi sulla croce, a chi lo sta per uccidere? Gesù cosa risponde? Risponde col perdono. Padre perdonali, non sanno quello che fanno. Ecco, la sintesi profonda della perfezione di Dio, l'amore e il perdono. Questi gesti sono il cuore del messaggio cristiano, dell'esistenza cristiana. Gesù rifiuta la violenza con la forza dell'amore, questo comportamento di Gesù è il vero stile di Dio e quindi deve diventare lo stile del vero discepolo del cristiano, perché Dio è amore, Dio è perdono. Questo è la prassi del quotidiano di ogni credente. Allora interroghiamoci quest'oggi davanti a questa parola, qual è il nostro comportamento da cristiani? Viviamo questa perfezione, viviamo quest'amore, questo perdono verso i fratelli? Perché il cristiano è colui che sa abbandonarsi sempre e totalmente nell'amore. Certo non è facile, ma almeno c'è il desiderio, c'è la capacità ogni giorno di rimettersi in gioco, di guardare a Gesù come modello di amore e di perdono. Padre buono, ti ringraziamo di questo immenso messaggio concreto di vita che ci rende veramente autentici cristiani. Fa che nella nostra vita possiamo essere testimoni di questo amore, di questo perdone verso tutti, per poter portare questo messaggio di salvezza, dare un senso nuovo a tante persone che si trovano nell'angoscia, nella difficoltà, ecco lontani da te. Ti chiediamo tutto questo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Grazie a tutti.